Assessore, dal 5 giugno è entrata in vigore la legge Lorenzin. Questo cosa comporterà? Comporta una riqualificazione, un riordino dell'offerta sanitaria, distinguendo l'offerta territoriale da quella ospedaliera e cercando di concentrare nei reparti ospedalieri la stesso tipo di offerta per acuti. Io penso che bisogna cogliere in questa regione, che è in equilibrio e che per la prima volta nel 2014 raggiungerà anche gli addempimenti pieni su ILEA ed è una bellissima valutazione del Ministero come un punto di partenza, un campo di opportunità per investire e differenziare la nostra offerta sanitaria, ospedaliera, territoriale e sociosanitaria.